In tanti, soprattutto addetti ai lavori, hanno partecipato al convegno organizzato dalla GEA a Porto Sant'Elpidio sul tema della gestione del sistema digerente nella sindrome metabolica. L'azienda che produce integratori alimentari per il benessere continua con successo nel suo impegno di divulgazione scientifica. Il tema viene introdotto da Jane Virgili. Riguarda la sindrome metabolica del dimagrimento. Noi come GEA siamo sempre estremamente attivi nell'ambito dell'informazione. Ci teniamo a farla sempre a Porto Sant'Elpidio, comunque nelle Marche, che è il paese dove ha avuto origine questa azienda. Oggi abbiamo due relatori veramente di eccellenza. Abbiamo il gastroenterologo Gabriele Prinzi, che è estremamente conosciuto come divulgatore e la nutrizionista Edi Virgili. Parliamo di dimagrimento. Noi come GEA siamo sicuramente attivi su queste tematiche, anche perché fra poco inizia la famosa e temutissima prova costume. Abbiamo due prodotti, lo Slim e il Dreni, che non sono, io dico sempre, non esiste la pillola magica per dimagrire. Esistono dei prodotti che però possono dare un valido aiuto. Lo Slim, ad esempio, è proprio un brucia grassi che aiuta molto proprio per sgonfiare, per sgonfiare, per quello che è il metabolismo proprio dei grassi. E invece il Dreni è un drenante che aiuta moltissimo per quelle che sono le problematiche legate alla cellulite, al microcircolo venoso, agli edemi. Parliamo di dimagrimento, ma in realtà parliamo un po' più di quella che è la necessità di dimagrire per motivi di salute. Quindi ovvio dobbiamo spogliarci, quindi dobbiamo essere belli e dobbiamo dimagrire anche per questo. Però diciamo la cosa fondamentale è cercare di essere normopeso, perché questo poi ci permette di avere un grosso vantaggio dal punto di vista clinico, perché poi tutte le malattie che ci possono venire in mente affondano le loro dedici proprio nell'eccesso di massa grassa, soprattutto in zona addominale. Quindi ecco, parleremo anche molto di sindrome metabolica, che non è una patologia, ma un insieme di patologie che costituiscono appunto questa sindrome che è definita epidemica a livello globale. La dieta è la soluzione migliore, ma poi ci si può aiutare con dei prodotti? Sì, la dieta è sicuramente la base, poi l'attività sportiva e ovviamente possiamo assolutamente aiutarci con dei fitoterapici, con degli integratori, ovviamente di buona qualità e con il consiglio, con la supervisione o del medico di base o ovviamente con dei professionisti sanitari che conoscano appunto le piante e le sappiano utilizzare con sapienza. Alla relazione di Edi Virgili ha seguito l'intervento di Gabriele Prinzi. Il sindrome dell'intestino irritabile è una manifestazione di un problema più profondo che si chiama SIBO, la quale può spiegare anche le placche aterosclerotiche ed è indipendente dal colesterolo. Sono questi piccoli esserini che fanno tanti di quei danni che alla fine possono spiegare anche le placche aterosclerotiche. Se sappiamo che ci sono, il test per vederlo è banale e li sconfiggiamo e li combattiamo, abbiamo risolto probabilmente una buona parte della mortalità per malattie cardiovascolari e non è poco. Si dice pure l'intestino è un secondo cervello. Si potrebbe dire che l'intestino è il primo cervello che crescendo come esseri, da vermi che eravamo a esseri pluricellulari, abbiamo avuto bisogno di qualcuno che ci guardasse le spalle e da là è arrivato il secondo cervello che pretende di essere noi, ma il vero cervello è l'intestino. Un medico con una storia personale molto particolare. Sono un chirurgo addominale d'urgenza fino al 2018 impegnato in sala operatoria e dal 2018 un po' perché la sala operatoria veniva stretta e dall'altro lato perché sentivo forte il bisogno di poter prendere la salute delle persone prima che finissero in sala operatoria. Sono uscito e ho cominciato a fare ambulatorio quasi in tutta Italia, mi vuo tra Palermo, Roma e Cesena in questo momento e soprattutto portare quella conoscenza dell'intestino e del microbiota che a volte sembra che manchi sia nei profani che nei professionisti. Voltaire una volta ha detto che il compito del medico è quello di divertire il paziente mentre la natura lo cura. Allora potremmo cambiare la parola invece che divertire, potremmo usare la parola intrattenere. Quindi se noi intratteniamo il paziente mentre lo rimettiamo nelle condizioni in cui il suo corpo si autoripara, siamo a posto. Quello è l'idea che ho io della medicina e quindi tutto quello che serve ad aiutare e a sostenere il paziente durante questo periodo, meno farmacologico è ovviamente, meglio è per me. Partendo proprio dalle spezie e partendo dalle piante su cui c'è una letteratura vecchia di secoli.